Signore e signori, scusate, comunicazione urgentissima, comunicazione di emergenza, cioè qui abbiamo veramente trovato un caso patologico molto grave, ma molto molto grave. Sì, perché, allora, 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 come ben sapete sono membro di diversi gruppi Facebook inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, inerenti alla storia militare, oltre che di numerosi gruppi Facebook inerenti a heavy metal, ma questo è un altro discorso. Allora, cari signori, allora, si parlava su uno di questi gruppi Facebook delle vicende inerenti alla guerra delle Falkland Malvinas, ovvero sia l'invasione da parte dell'Argentina delle isole Falkland, la risposta britannica e la rapida e devastante vittoria inglese sugli argentini con la repentina caduta della giunta militare che reggeva l'Argentina, colpevole della tragedia dei Desaparecidos. Allora, sentite un po' che roba. Un tizio, un signore, scrive su questo gruppo Mi ricordo l'affondamento del Belgrano, incrociatore che nella vita precedente era a Pearl Harbor con il nome di Indianapolis quando attaccarono i giapponesi. Veramente il Belgrano non era l'Indianapolis, che era un incrociatore pesante. L'Indianapolis fu la nave che trasportò i componenti per la bomba atomica a Iwo Jima e fu affondato nel viaggio di ritorno. L'Indianapolis, ok? Il general Belgrano, Lara, general Belgrano, era nella sua prima vita l'incrociatore leggero USS Phoenix, venduto agli argentini negli anni 50. Ok, va bene, va bene, può succedere, si può fare confusione. Ma sentite un po' che cosa dice un'altra persona. che inoltre l'incrociatore affondato era fuori dalla zona di guerra ed era una nave ospedale. Almeno così fu battezzata nei giorni prima di salpare verso le isole dalla base navale in Patagonia, anche se ancora armata. Cioè, ma veramente, ripeto, il general Belgrano era fuori dalla zona di guerra ed era una nave ospedale. Almeno così fu battezzata nei giorni prima di salpare verso le isole della base navale in Patagonia, anche se ancora armata. cioè, vi prego, cioè, signori vi prego, vi prego, vi giuro, vi prego di credermi. È vero, lo hanno veramente scritto. Cioè, in poche parole questo tizio è riuscito a concentrare una valanga di cazzate mai viste. Il general Belgrano, nave ospedale, anche se ancora armata. Cioè, secondo tutte le convenzioni internazionali, le navi ospedale devono essere assolutamente disarmate. uno, non devono avere personali militari a bordo, non devono trasportare né armi, né rifornimenti per i contendenti. E trasformare la nave ammiraglia della Marina Argentina in una nave ospedale. Cioè, signore tenetemi, signore Dio tenetemi, signore Dio tenetemi, anche perché ovviamente poi è saltata fuori la storia che il general Belgrano era stato affondato nella zona di interdizione, al di fuori della zona di interdizione che gli inglesi avevano dichiarato attorno al Falkland. Allora, il problema è semplicemente questo qui. In un conflitto non esistono zone franche se non le acque territoriali di paesi che in quel conflitto sono neutrali. Quindi, chiaro? Insomma, inoltre poi la storia del general Belgrano, dell'affondamento del general Belgrano come crimine di guerra, è una storia che non sta in piedi. Perché, ripeto, uno, in guerra e tra Inghilterra e Argentina c'era lo stato di guerra, in guerra, ripeto, non esistono zone franche se non i territori e le acque territoriali di nazioni estranei al conflitto. Chiaro? Il general Belgrano nave ospedale non poteva essere nave ospedale se armata. E poi vorrei sapere dove cazzo ha preso sta notizia, ma lasciamo perderla. Crimine di guerra? Crimine di guerra, l'affondamento del general Belgrano? Ah, davvero? Peccato solo che lo stesso comandante della nave, lo stesso comandante della general Belgrano, insomma, c'era dire una cosa. Il 2 maggio del 1982 il general Belgrano fu silurato con tre siluri dal sommergibile britannico Conqueror e secondo certe belle teste, ripeto, sarebbe stato crimine di guerra perché era al di fuori della zona di interdizione totale dichiarata dai britannici. Va bene. Peccato solo una cosa, cari signori, peccato solo una cosa, che lo stesso comandante della nave, il capitano Hector Bonzo, ha dichiarato più, più e più volte che l'affondamento della sua nave, l'affondamento del general Belgrano, fu né più né meno un normale e dovuto atto di guerra, senza alcun crimine. I due paesi erano in guerra, il sommergibile britannico Conqueror ha intercettato il general Belgrano, lo ha silurato e lo ha affondato. Persino il comandante del Belgrano, ripeto, il capitano Hector Bonzo, ha dichiarato più volte che si è trattato di un normale, di una normalissima azione di guerra. Ma niente, crimine di guerra perché era al di fuori della zona di interdizione. Cioè, io non lo so, signori, signori, il general Belgrano nave ospedale, ma armata. Io non ho parole, vi posso dire solo quello. Ah, nota bene una cosa. La guerra delle Falkland, mettiamola così, ha dimostrato veramente la pochezza della dittatura argentina e soprattutto la pochezza di certi eroi argentini. Uno su tutti, che mi sta particolarmente a cuore citare, l'eroico eroe Leonardo Astis, ufficiale di Marina, ufficiale dell'intelligence della Marina, torturatore, spia, delatore, infiltrato tra le madri di Plaza de Mayo, infame, assassino. Un uomo che quando si è trovato di fronte agli uomini dell'OSIS, che cosa ha fatto? Ha alzato le mani, si è arreso perché si era cagato addosso. Perché le dittature, solitamente, 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 le dittature di carta pesta come quella argentina, quando sbattono il muso nella guerra vera, quando gli eroi abituati a fare, come dire, i gradassi, a fare, a fare, come dire, gli eroi ammazzando a sangue freddo ragazzine di 17 anni, buttandole nel bagagliaio della macchina come un sacco della spazzatura, quando si trovano a che fare con gente che la guerra la fa sul serio, fanno una sola cosa, alzano le mani e si cagano addosso per la paura. Tutto qui. Vabbè, signori, scusate, questa storia del general Belgrano ex USS Phoenix come nave ospedale proprio mi giungeva nuova e ve la dovevo proprio raccontare. Il problema è che c'è gente che ci crede veramente. Che cazzo ve posso dire, signori? Che cazzo ve posso dire? Che cazzo ve posso dire? Aiuto! Aiuto! Aiutate! Aiuta! Nia posso fa! Nia posso fa! Basta! 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 Tante ne ho sentite ma questa veramente è grossa. Tutto qua. Ma non preoccupatevi, ne troverò altre. Ne troverò altre e ci divertiremo insieme. Quindi, cari signori, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Come sempre, aspetto i vostri commenti. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao!